Il funzionario del comune di Varese di origini favaresi, deceduto in un lager nazista e che salvò la vita di numerosi ebrei, verrà ricordato attraverso una fondazione, la Fondazione Culturale Calogero Marrone, che permetterà di studiare l'eroiche gesta dell'uomo che è stato anche insignito del titolo di giusto tra le nazioni. La fondazione si occuperà dunque anche di ricerca, catalogazione e promozione della figura dell'eroe Calogero Marrone, che si sacrificò per salvare centinaia di persone. Il prossimo step sarà l'approvazione dello statuto della fondazione da parte del Consiglio Comunale di Favara entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della norma approvata all'Ars. Si prevede inoltre che l'ente che dovrà avere sede a Favara dovrà essere presieduto dal sindaco protempore della città.